Salve ragazzi, qui American Shadow con Half-Life Proseguiamo dall'ultima volta Scusate, l'ultima volta eravamo rimasti qui Oggi non riesco a parlare No, che cosa ho fatto? Cosa? No Non avvicinarti, sai? No, no Cavolo Forza Andiamo Perché sono morto? E perché soprattutto sono partito con 8 d'energia? Ma perché forse ho usato i due Medikit Cosa? Ah, che rottura di scatole questi mostriciatti Sali No Ecco questo La porta non si può usare Qui avevamo trovato dei proiettili Che già ne ho preso Scendiamo presto Se può uccidere da qui questo stile nostro Qui c'è qualcosa muscolo Che è una delle palla Mori! Ah, finalmente Non riesco a capire perché ho trovato dei proiettili Ma non una pistola È una cosa alquanto strana Salta No Sì Finalmente No Non riesco ad uscire da questo cavolo di buco Forza Esci Ah No Non voglio andare di qui Non riesco a trovare una pistola Un'arma che Mi possa aiutare Trovo solo proiettili Dannazione No Ancora questi Chiusi così Volanti Wow Sono molto intelligente ragazzi Ok 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 No Stupido Mastracciattolo Ok Eccolo Uno è morto L'altro Non cadere Prima è morto Ed è morto No Ce ne sono troppi Senza una pistola È difficile Ammazzarli Ecco qui Prima mi ero dimenticato di prendere i proiettili Non avevo dimenticato cioè Ci sono certe parti in questo gioco che non riesco a completare Prova bene Vieni qui Ci sono degli altri Tutti infatti Tutti infatti Solo 8% di vita Oh È impossibile Impossibile Un po' più lento Ah Peccato Pensavo si potesse scendere in fretta Invece no 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 E sono morto ancora Ah Non ho sistemato E È impossibile Da fare Ecco lì Quanti ce ne sono Non ce ne farò male 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 No Ehi È impossibile Sto Perdendo solo tempo in questa parte Scusatemi Ma Non sono in grado di Completare Non vorrei cadere di non giù Dai Ce la posso fare No 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 Per mezzo di uno Stupido Cosa Ce l'avevo quasi fatta Stupide Mostriciattoli Siamo già a 7 minuti Ragazzi Siamo già a 7 minuti A dire come sto cercato Risponiamo Di uscire La mano Finalmente Questa volta Non mi curarmi Sì Finalmente Non voglio rischiare Quindi Non ho ancora Questi Come di cose in queste scatole potrebbe uscire un qualcosa di utile si finalmente una pistola munizione non è niente un bel niente è un bel niente si spara con entrambi i tasti bene ops e adesso no devo rischiare ecco qui ecco qui quanti mostri bene vediamo qui cosa c'è bene ragazzi scenderò nella prossima parte questa parte finisce qui se il video vi è piaciuto mettete un mi piace lasciate un commento ed iscrivetevi al canale alla prossima ciao ciao